In una casa di cura, un uomo anziano legge una storia a una donna che soffre di Alzheimer. La storia inizia negli anni 40, negli Stati Uniti d'America, dove Peter, un giovane operaio, incontra Mary, una ragazza di una famiglia benestante. I due giovani si innamorano durante un'estate magica, tra balli, passeggiate e sogni condivisi, facendo l'amore in una vecchia casa che Peter vorrebbe ristrutturare per stare insieme in futuro. Il problema è che i genitori di Mary non approvano la relazione perché pensano che Peter sia solo un povero operaio con un futuro povero e quindi la separano da lui. Il giovane Peter non si arrende e comincia a scrivere lettere a Mary ogni giorno, per un anno. Purtroppo Mary non riceve mai alcuna lettera perché la madre le nasconde in un cassetto. Peter, ormai disilluso, non vedendo alcuna risposta, decide di arruolarsi volontario nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Qualche anno dopo, al termine della guerra, Mary si fidanzia con Michael, un giovane ricco e di bell'aspetto, che le era stato presentato da amici dei suoi genitori. Mary, leggendo il giornale, vede per caso un articolo proprio su Peter, una foto che lo vede accanto alla casa che lui stesso ha restaurato e che era stata la casa dei loro sogni giovanili. Spinta dal cuore, Mary va a far visita a Peter nella nuova casa e proprio lì i loro sentimenti raffiorano nuovamente con forza. Tra baci sotto la pioggia e conversazioni appassionate, Mary capisce che non ha mai smesso di amare Peter, il primo vero amore della sua vita. Tuttavia, ora Mary si trova davanti a un bivio. Deve scegliere tra la vita pianificata con il ricco Michael e l'amore eterno per Peter. Ma alla fine, Mary decide di seguire il cuore e rimane con Peter. A questo punto, la storia torna presente e diventa sconvolgente. In realtà, l'uomo anziano che legge la storia è Peter, mentre la donna malata è proprio Mary. Ma, nonostante l'Alzheimer, la povera Mary ha dei rari momenti di lucidità in cui ricorda il suo profondo amore per Peter. In una notte commovente, Peter e Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano nella mano. Ma, nonostante l'Alzheimer, la povera Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano in cui ricorda il suo profondo amore per Peter. Ma, nonostante l'Alzheimer, la povera Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano in cui ricorda il suo profondo amore. La povera Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano in cui ricorda il suo profondo amore per Peter. La povera Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano in cui ricorda il suo profondo amore per Peter. La povera Mary si addormentano insieme e muoiono serenamente, mano in cui ricorda il suo profondo amore per Peter.